In questo momento abbiamo creato più che un comitato un coordinamento di cui fanno parte sia albergatori che pubblichi esercenti e ristoratori e tutti quelli che partecipano al turismo e alla promozione del territorio del Garda Trentino. Domani avrete un incontro con l'assessore Dallapiccola, di cosa discuterete? La prima tassa di cui vorremmo discutere in questo momento è sicuramente la tassa del turismo che in tutti questi giorni, l'abbiamo visto anche sui giornali, ha attirato l'attenzione di tutti gli operatori. Quello che possiamo chiedere all'assessore all'incontro di domani è la sospensione di questa tassa in attesa di avere i decreti esplicativi che ci mettono in condizione di capire come noi nei prossimi giorni, nei prossimi tempi possiamo operare nei confronti dei nostri clienti. Si è da poco conclusa Expo Riva Hotel, molti visitatori, però molte aziende che sono in crisi per la tassazione e per la burocrazia. In realtà anche qua, come tutte le cose, si parla di media. Ci sono aziende, magari medio, grandi, che si sono organizzate negli anni che hanno investito e che riescono a sopravvivere a questa tassazione che ormai ha raggiunto i livelli insostenibili. Diverso invece è per determinati tipi di categoria, di attività più piccole, più a livello familiare, che percentualmente hanno raggiunto dei livelli di tassazione che diventano insostenibili per riuscire poi anche a investire nella propria attività. Io spero che si possa tutti insieme, intorno ad un tavolo, ritornare a ragionare su questa tassa anche perché non si tratta solamente di accettarla o di inaccettarla, perché potrebbe essere interessante investire su questa tassa per poi avere delle ricadute sul territorio. Certo che ci sono alcune incongruenze all'interno di questa legge, come quella di far pagare solamente al 50% delle attività turistiche la tassa stessa. Questo assolutamente non è accettabile né dal punto di vista legale e neanche quello dal punto di vista della concorrenza.